Ai campionati regionali di prove multiple riservati alle categorie cadetti e cadette, svoltisi recentemente al Virgiliano di Napoli, successi per Idee Atletica Aurora Salerno e per Atletica Agropoli, in campo maschile si sono imposti i particolari dell'Idea Atletica seguiti da Maria Rosaria Licchio e Cosimo Malchionda. Titolo regionale Alessandro Marasco, Lucas Montoro e Simone Di Cerbo. A salire sul gradino più alto del podio per il sudalizio cilentano le cadette Gerardina Spinelli, Alice Corrado, peraltro seconda e terza nella classifica individuale, Michela Galgano e Chiara Tarani. I ragazzi sono stati in testa dall'inizio, ha detto Maria Rosaria Licchio dell'Idea Atletica Aurora. Peccato per Marasco che è caduto su un ostacolo e si è infortunato, chiudendo secondo nella classifica individuale. Bravi tutti i nostri portacolori, ma confidiamo nell'avvicinamento di piccoli sponsor che possano consentire loro di gareggiare pure ai tricolori. Siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti dalle nostre atlete, ha dichiarato Angelo Palmieri, presidente dell'Atletica Agropoli. Inoltre, l'ormai annunciato rifacimento dell'impianto di atletica leggera dello stadio Guariglia ad Agropoli darà maggiore carico al nostro settore agonistico.